In 500 trasportivi e semplici cittadini hanno partecipato alla non edizione della Corsa Cittadina di Bolsano in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, un modo per fare i conti con un fenomeno al quale la provincia non è immune. Nella maggior parte dei casi, direi oltre il 90%, parliamo di violenza domestica, quindi quella violenza che avviene fra le mura domestiche appunto per mano di un familiare maschile, di solito un partner oppure un padre, a volte anche un figlio. La manifestazione è stata organizzata dal comune di Bolsano in collaborazione con la UISP, la Rete Cittadina contro le Violenze di Genere e con l'adesione del gruppo sportivo della Polizia di Stato. Dopo due anni di forzata sosta per via della pandemia abbiamo ripreso, quindi i muscoli sono affaticati, non allenati. C'è una flessione nel numero di iscritti però l'entusiasmo è tanto, quindi è una dimostrazione veramente di vitalità e di fiducia nel futuro. Due le corse, la cronometrata di 5 km, rivolta in particolare agli sportivi, poi i 3 km di passeggiata non competitiva, destinata a tutti.